buongiorno 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 oggi è oggi è 26 aprile e ho la mia tutina gialla ammette di buon umore ragazzi è quasi mezzogiorno una fame da lupi ho sempre fame penso che oggi sono violetta non riesco a digerire le pietanze di pesce la sera io sono appena tornata a casa e credetemi oggi giornata proprio cappa appena avuto una discussione con gli operatori postali perché a mio avviso chi ha l'applicazione deve passare prima perché dice sull'applicazione se non c'è nessuno prima se non c'è nessuno tu mi fai passare prima diciamo dopo che hai fatto hai servito la persona che prenotati invece questi che facevano questi che facevano facevano passare le persone che erano entrate anche dopo di me hanno anche no insomma quando ho visto la situazione come stava andando io sono arrivata un po prima quindi a aspettato come una persona civile il turno il turno della persona che c'era prenotata prima di me se ne va a lei tu fai passare le persone le persone che sono loro che poi facendo passare le persone dopo di me che sono entrate dopo di me senza la prenotazione ma prendendo il bigliettino normale allora perché qui non siamo fessi e infatti anche ultimamente questo ufficio postale sta dando un po i numeri perché anche un altro signore che aveva ragione ha avuto da qualche piccola discussione stasera in questione non mi sto a ripetere i fatti suoi però comunque aveva ragione centocento ma quelle persone dietro al bancone dietro allo sportello scusate sto un po fusa dietro allo sportello si sono rivolte con i brutti modi oddio però con la presunzione con la puzza sotto al naso sì però il signore alla fine non è stato neanche servito a dovere si sono presi documenti per fare le cose documenti per fare quello che lui serviva insomma niente allora giustamente quello si è scaldato ne ha detto evidente di ogni ha fatto bene ha chiesto indietro i suoi documenti hai stato quello e se ne aiuto e ha fatto bene a te me ne vado da un'altra parte un altro ufficio postale a fare le mie cose perché comunque io devo dire non tutti gli operatori ci sono persone anche molto per bene che sanno fare il loro lavoro anzi non è che per colpa di questi trogloditi uno deve fare tutta un marzo un fascio buonasera a tutti sono in pigiamata ok capelli di che ho fatto sono in pigiamata e perché oggi è stata una giornata no no perché probabilmente stanno arrivando si occupa al lente perché mi stanno arrivando le mestruazioni quindi sono questo mese sono deboluccia no inutile che mi dite prenditi integratori le ho provate tutte allora questo è l'effetto del 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 wonder water di l'oreal che in soli otto secondi agisce per rendere i capelli più lisci infatti i capelli sono non sono crespi come al solito quindi mi piace beh che ho fatto vedere già il tutorial su instagram a posto seguitemi su instagram e vi metto seguitemi su instagram andate a vedere il posto dedicato con tutto il tutorial eccetera eccetera questo l'ho ricevuto come quindi già sapete il progetto tfn di tfn di in collaborazione con l'oreal veramente mi piace un sacco presto noi video per poi cercherò di bloccare più possibile questa settimana è stata un po così proprio per quanto vi ho già detto le giornate fortunatamente sono di nuovo piene non ce la facevo più spune di voi non lo sanno ma io sono anche una book blogger quindi recensisco libri di solito con collaboro quasi sempre con la newton compton editori difficilmente con altre case editrici ma non perché non voglia perché non è mai capitata l'occasione e ultimamente vabbè ieri è uscita la mia recensione del nuovo libro di anna zarlenga che adoro alla follia anche perché in primis è napoletana come me e comunque il suo libro che è uscito oggi 29 aprile che è fidanzato part time a comprarlo leggetelo esilarante veramente e non solo metto casomai link alla recensione oppure seguitemi sulla pagina carmen r ve lo scrivo qui e niente adesso torno a leggere un altro libro che pure presto deve essere recensito non vi posso dire ancora quale non vi posso dire ancora nulla quindi dovrete aspettare ancora una due settimane buongiorno sentite perché ci sono gli operai fuori che stanno facendo i lavori alle parazioni a fianco quindi non ci pensate oggi e 30 aprile finito anche aprile non un mese e vedevo delle scadenze da rispettare per l'inizio della settimana prossima quindi mi sto anticipando un po di lavoro non trovo però tutto quello che avevo iniziato a preparare i neri perché non lo so sono i nostri strumenti vabbè poi ci ci penso con un mal di schiena finante stamattina che se non abbia notato un calcio veramente nel punto mi fa male infatti dopo non passerò la crema finisco un attimo questo servizio così almeno trovo un po di sollievo non posso non posso dirvi di cosa sto parlando ma manca poco tempo tempo debito non posso dirvi cosa si tratta perché è ancora presto però no vabbè se cancellato il pezzo un'altra volta ragazzi è meglio non ci entro oggi fa proprio caldo ma l'ho messa in cuci perché ci sono altri operai e mi pigiano per pazzi fa caldo infatti mi sono spostata all'ombra perché se lo svengo buonasera a tutti sono in pigiama questo è il mio nuovo pigiama di shin molto molto bello anche tutto il pantalone emaculato adoro ho preso proprio nell'ultimo ordine che ho fatto ho fatto proprio un ordine piccolino per questo non l'ho filmato mi scocciavo a filmare per tre cose volevo dirvi che lo scorso vlog mi sono dimenticata poi di farvi vedere cosa ho comprato da nana boutique allora questa è la busta che vi faccio vedere tadaaa una pochette gialla con questa catenina lunga e se si vuole si può tenere anche così però non preferisco così anche delle taschine interne una e poi due se vedete bene sì e mi sembra di averla pagata 10 oppure 15 colori disponibili di pare sia gialla appunto nera rosa verde rossa beige khaki bianco pink quindi credo siano due tona un'altra tonalità di rosa e un'altra tonalità di giallo poi arancio e azzurro secondo me un altro giallo da essere tipo senape penso e non lo so perché comunque non l'ho vista esposta come colori esposti ho visto solo questa sinceramente cioè esposti esposti sulla pagina e me la soffatta mettere da parte i perché qua